Avezano attesa per la proclamazione di De Angelis, la decisione dovrebbe esserci domani. Trasfusioni e risparmio di sangue, nuova procedura all'ospedale di Avezano. Festival della comunicazione Controsenso, tanti ospiti e le iniziative programmate dal 12 al 14 luglio. Comuni di Cicloni, premiata la Sergen, Lega Ambiente ha riconosciuto virtuosità e bontà del servizio offerto. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Iniziamo con la politica che non potrebbe essere diversamente dopo i risultati delle amministrative di domenica scorsa. Proseguono nella sede municipale di Avezano le operazioni di verifica dei voti per l'insedamento del nuovo sindaco Gabriele De Angelis. Le stesse sono iniziate ieri e dovrebbero concludersi nella giornata di domani, mercoledì, giorno previsto per la sua proclamazione. Al lavoro in comune ci sono il Presidente del Tribunale di Avezano, Eugenio Forgillo, ed i membri della Commissione elettorale. In particolare il Presidente ha il compito di decidere sulla questione di governabilità che sta animando il dibattito tra i due schieramenti politici nell'ambito del turno di ballottaggio vinto come noto da De Angelis. Lo stesso vincitore è convinto di poter esercitare il suo mandato. Ha specificato che c'è giurisprudenza consolidata che ci dà ragione e ci consente la piena governabilità ed è per questo che stiamo pensando ad ultimare i lavori di presentazione dell'agenda politica in attesa della decisione del Tribunale. Nel riferimento di De Angelis in particolare è legato alla famosa anatrazzoppa. Si tratta del fenomeno che scatterebbe dal momento che le liste di Pangrazio hanno ottenuto il 50 più 1% dei voti validi, meno di quello di De Angelis. Di fatto quindi il nuovo sindaco otterrebbe 9 seggi, mentre l'uscente 12. Uno andrebbe al Movimento 5 Stelle e uno a Cascere. Se così fosse, quindi Gabriele De Angelis e la sua coalizione insieme non avrebbero numeri per governare. Ma in realtà questo problema potrebbe non presentarsi come già avvenuto in altre città italiane dove si è fatto ricorso al premio di maggioranza per garantire la governabilità. Una soluzione quindi che sarebbe dettata dalla necessità di permettere alla nuova amministrazione di governare e impedirgli di decadere costringendo gli elettori a recarsi di nuovo alle urne. E sull'esito delle recenti elezioni amministrative interviene il Presidente della Regione Abruzzo Luciano D'Alfonso. Io sono dispiaciuto dal punto di vista politico, addolorato dal punto di vista personale, poiché due persone che io stimo, che hanno battagliato con qualità, hanno perso le elezioni e io non uso intercalari all'Aquila e ad Avezzano, abbiamo perso. Il giorno dopo l'esito dei ballottaggi che hanno consegnato al centro-destra tre dei quattro comuni in cui si votava in Abruzzo, il Presidente della Regione Luciano D'Alfonso ammette la sconfitta del Partito Democratico e pensa al futuro. Adesso si tratta di decodificare le ragioni di questa sconfitta, di capire il perché, che cosa non ha funzionato e trovare la soluzione perché la democrazia è fatta così. Si vince e si perde. A me piace sempre vincere, ma quando si perde bisogna interrogarsi sulle ragioni della sconfitta. Per esempio, porrò un tema al mio partito, di ritrovare una radicalità di fronte ai problemi che la cittadinanza ci pone. E Forza Italia-Abruzzo, in un comunicato a firma del coordinatore regionale Nazario Pagano, ritiene esaltante il voto in Abruzzo. Tra l'altro afferma, i risultati del voto in Abruzzo sono entusiasmanti per il centro-destra. In un contesto estremamente positivo, perfettamente in linea con il trend nazionale, Forza Italia conferma la sua leadership indiscussa e si riappropria di un ruolo centrale nelle dinamiche politiche regionali. L'Abruzzo è ormai, a tutti gli effetti, un modello esportabile anche in ambito nazionale. Così il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazaro Pagano, commenta appunto gli esiti delle recenti elezioni amministrative alla luce dei balottaggi di domenica scorsa. Sono entusiasta di quanto è accaduto, dice Pagano. I risultati dell'Aquila e di Avezzano, ma anche quello di Martinsicuro, premiano gli uomini, ma soprattutto i progetti politici messi in campo dal centro-destra. Decisivo, come sempre, è stato l'apporto del presidente Silvio Berlusconi, che non ha mai fatto mancare sostegno e vicinanza ed ha ricordato pubblicamente il grande lavoro svolto dal centro-destra nel capologo di regione. Il centro-destra torna al governo dopo dieci anni. Forza Italia ha agevolato la candidatura di Pierluigi Biondi con il passo indietro di Guido Liris a favore dell'unità della coalizione, così come espressamente auspicato anche dal nostro leader Silvio Berlusconi. Ne ha nato un progetto esaltante che ha acquisito Forza giorno dopo giorno fino al meraviglioso risultato del ballottaggio. Forza Italia ha eletto ben sette consiglieri e trainirà la coalizione con spirito di unità e collaborazione nei confronti degli alleati. Anche a Avezzano, aggiunge Pagano, il risultato è stato straordinario. Il ribaltone del ballottaggio boccia chiaramente l'amministrazione uscente e ci consegna una grande responsabilità, interpretare al meglio la volontà di innovazione e cambiamento che ci arriva dall'elettorato. Il sindaco Gabriele De Angelis avrà il sostegno di Forza Italia e di tutta la coalizione. E anche Fratelli d'Italia, A.N. Abruzzo, soddisfatta per l'elezione di Pierluigi Bondi al sindaco dell'Aquila. I coordinatori regionali Gian Donato Morra ed Etelvardo Sigismondi in una nota scrivono Esprimiamo piena soddisfazione per l'elezione al sindaco dell'Aquila di Pierluigi Bondi. Una vittoria che non solo restituisce speranza di ripresa al capoluogo, ma che in termini politici rilancia il centrodestra in tutto l'Abruzzo e boccia le politiche del centrosinistra a tutti i livelli. Da subito e senza tentenamenti, Fratelli d'Italia, A.N. ha individuato in Pierluigi Bondi la persona adatta per interpretare una nuova e proficua stagione politica per il capoluogo di regione e che potesse diventare collante di tutte le forze di centrodestra. La vittoria all'Aquila rappresenta un modello da esportare nelle future competizioni amministrative fatto non solo dalla fondamentale unità del centrodestra, ma anche dalla capacità di aprirsi a realtà civiche e di proporre un progetto amministrativo serio ed interpretato da persone credibili. Un ringraziamento di cuore viene rivolto al Presidente nazionale Giorgia Meloni per aver creduto e sostenuto la candidatura di Bondi e da tutti i candidati e le persone che si sono impegnate con Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale in queste ultime elezioni amministrative. Una nota di Celso Cioni della Confcommercio comunque è legata alla elezione del Sindaco dell'Aquila. Infatti ha inviato una nota al neosindaco dell'Aquila, Pierluigi Bondi, e dai consiglieri eletti nel Comune. Questo è il testo. A titolo personale rivolgo a tutti voi le mie più vive congratulazioni e i più sinceri auguri di proficuo lavoro per l'importante e delicato compito che vi attende. Nell'interesse dell'Aquila e dei suoi cittadini sarei molto lieto se la prima azione della nuova amministrazione comunale fosse il doveroso riposizionamento nell'aula del Consiglio Comunale, Casa Comune di tutti gli Aquilani, del Crucifisso, quale emblema della cristianità e simbolo identitario della nostra civiltà e della nostra millenaria cultura. Mi auguro fortemente che questo mio invito sia da voi accolto dal momento che tutti i appelli che ho nel tempo rivolto alle altre amministrazioni non hanno purtroppo avuto alcun esito. Cioni confida nella volontà della nuova amministrazione di accogliere questa sua istanza ampiamente condivisa. Una buona notizia per coloro che devono fare ricorso alla ricovera in ospedale. Ridurre le trasfusioni, risparmiare sangue, le cui scorte sono sempre sul filo, e rendere più sopportabile l'intervento per il paziente. Queste in sintesi gli obiettivi di una nuova procedura che a giorni verrà attivata all'ospedale di Avezzano per essere poi estesa a tutti gli altri presidi dell'ASL 1 Abruzzo. La procedura che l'ASL provinciale è tra le prime in regione ad adottare si chiama PBM, Patient Blood Management, ed è il frutto di un percorso di preparazione iniziato nei mesi scorsi all'ospedale di Avezzano, messo a punto da un comitato ospedaliero per il buon uso del sangue, guidato da Luigi Dell'Orso, direttore del servizio immunotrasfusionale dell'ASL e preseduto dal direttore sanitario di presidio Lora Cipollone. La procedura verrà introdotta nei prossimi giorni ed entro luglio sarà accompagnata dall'attivazione dei braccialetti rossi che tramite una gestione informatica miglioreranno sensibilmente la sicurezza delle trasfusioni. Le nuove modalità di gestione della risorsa sangue prevedono un approccio multidisciplinare e quindi un lavoro in sinergia tra centro trasfusionale, reparti e servizi dell'ospedale. La prima unità operativa in cui si applicheranno le nuove modalità sarà quella di ortopedia, branca in cui l'esigenza di gestire al meglio il sangue è particolarmente sentita. In cosa consiste in sostanza la modalità della PBM? Prima di effettuare interventi chirurgici programmati si fa in modo, di dare il dottor Dell'Orso, di portare a livelli il più possibile elevati i valori dell'emoglobina del paziente. Ciò consente di abbassare il rischio di trasfusioni, spesso necessarie, a causa della perdita di sangue durante le operazioni chirurgiche e di contenere le sofferenze del malato, evitando al contempo complicanze. Va ricordato infatti che la trasfusione è un piccolo trapianto poiché nell'organismo viene immesso sangue di altri soggetti, provocando reazioni di rigetto. L'altro obiettivo importante è risparmiare del sangue, le cui scorte annuali bastano a malapena a coprire il fabbisogno. Nella provincia di L'Aquila ogni anno ci sono circa 13.000 donazioni a cui la Marsica concorre assicurando la metà della disponibilità complessiva, quindi circa 6.500 sacche. L'esigenza di usare il sangue in modo più virtuoso per scopi terapeutici è giustificata dalle condizioni sempre più severe fissate per le donazioni. Entro il prossimo luglio, peraltro, all'ospedale di Avezzano entreranno in funzione i braccialetti rossi che successivamente saranno introdotti in tutti gli altri ospedali dell'azienda. Applicati al polso del paziente, i congegni elettronici, tramite un sistema informatico, permetteranno di ridurre di molto il rischio di errori nelle trasfusioni, associando automaticamente il paziente alla sacca a lui destinata, una misura che farà scendere il rischio di sbagli quasi in prossimità dello zero, alzando notevolmente il livello di sicurezza. Torna l'attesissimo Festival della comunicazione Contro Senso. L'appuntamento, giunto alla quinta edizione, è dal 12 al 14 luglio nell'ex scuola Montessori ad Avezzano, nelle carceri e nel cortile di Palazzo Ducale di Tagliacozzo e nell'atrio del Museo del Brigantaggio a Santa Maria. Quest'anno il tema centrale sarà le nuove frontiere della comunicazione e la comunicazione senza frontiere. Il Festival, nato da un'idea di Pietro Guida, Gianluca Rubio e di Eleonora Berardinetti, ha registrato lo scorso anno numeri importanti con oltre mille accreditati, 70 relatori, 20 seminari e temi di grande attualità, giornalismo, comunicazione e politica. Anche quest'anno, tanti sono gli ospiti ed i seminari che animeranno la tre giorni, che permetterà a giornalisti, politici ed esperti di confrontarsi sulle ultime tendenze nel campo della comunicazione. Per la quinta edizione, la carovana di Contro Senso ha deciso anche di ampliare i suoi orizzonti ed aprire alla cultura. Mercolì 12, nelle sali del Palazzo Ducale di Tagliacozzo, sarà inaugurata la mostra di pittura Newsteller, curata dagli artisti Anna Paola Torres, Valeria Porpat ed Emanuele Moretti. Tra le novità inoltre c'è anche il concorso letterario rivolto ad autori abruzzesi e non che con i libri di narrativa hanno valorizzato la storia, la cultura e le tradizioni della loro terra. Possono partecipare autori affermati o esordienti. I racconti dovranno essere stati pubblicati dal 2015 ad oggi. L'edizione Comuni Ricicloni 2017, organizzato da Liga Ambiente, ha riconosciuto ancora una volta la virtuosità e la bontà del servizio erogato da Segen Spa per i comuni soci. Infatti la Segen, con sede a Civitella Roveto, è stata inserita tra le aziende più virtuose del panorama nazionale delle società che gestiscono il ciclo dei rifiuti, piazzandosi nella classifica dei consorsi sotto i 100.000 abitanti al dodicesimo posto, unica realtà abruzzese e tra i due consorsi dell'intero centro-sud. Nello specifico, la classifica tiene conto di una serie di parametri, ad esempio l'obiettivo del raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla legge, la qualità del servizio erogato, le politiche di prevenzione. È un risultato di notevole importanza e di grande soddisfazione, dice l'amministratore Fernando Capone, anche per il fatto di aver confermato la posizione in classifica del 2016. Anche nella scorsa edizione eravamo al dodicesimo posto. Questo riconoscimento nazionale, continua Capone, voglio condividerlo con i cittadini del nostro comprensorio, con i sindaci e gli amministratori. Premia infatti i grandi sforzi e la grande attenzione che quotidianamente ognuno di noi, nei rispettivi ruoli, svolgono alla tutela dell'ambiente nelle sue varie specificità. Alla luce del riconoscimento ricevuto, conclude Fernando Capone, la nostra attività riparte ancora con maggiori motivazioni e con la consapevolezza che si può e si deve sempre migliorare la qualità del servizio erogato nell'interesse esclusivo dei nostri concittadini. Organizzato da Azion Italia, cittadinanza attiva, Slow Food Italia, in collaborazione con il Comune dell'Aquila, il Festival della partecipazione torna quest'anno per la sua seconda edizione. Più di 70 eventi in quattro giorni, oltre 300 protagonisti, dibattiti, lezioni magistrali, workshop, concerti, spettacoli teatrali, mostre fotografiche e buon cibo per ribadire il senso ed il valore della partecipazione come condizione e risorsa indispensabile per una democrazia di qualità. Un emporio in cui esperienze e conoscenze, opportunità e rischi, nuove e vecchie sfide vengono messe in campo, discorse, trasmesse e rilanciate. Il Festival si riterrà all'Aquila dal 6 al 9 luglio e nasce dall'Alleanza Italia, sveglia un patto stretto da tre organizzazioni civiche, Azion AD Italia, cittadinanza attiva e Slow Food Italia, accomunate dalla volontà di contribuire ognuna con le proprie specificità al cambiamento del Paese. Una fabbrica di idee, un laboratorio aperto che punta a coinvolgere un pubblico di non addetti ai lavori, che vuole riappropriarsi dello spazio urbano e politico e contribuire a ridisegnare il futuro della propria comunità. Il Consiglio regionale non si farà a deciderlo. È stata la maggioranza d'Alfonsiana che ha convocato una riunione dei capigruppo questa mattina, poche ore prima dell'inizio della seduta d'aula. Siamo al limite della sopportazione, affermano i consiglieri del gruppo del Movimento 5 Stelle. Sono sei mesi che questo Consiglio regionale non produce atti concreti per la Regione. Tra rinvii e discussioni inutili, il Consiglio è ostaggio di un non-governo che si inghiozza dentro e fuori dall'Aula e che trasuda debolezza strutturale ed amministrativa. L'assenza del Presidente D'Alfonso dimostra che la debacle amministrativa del Partito Democratico deve aver inferto il colpo di grazia. Ora tutti i consiglieri regionali sembrano solo proiettati verso le elezioni politiche, incalzano i 5 Stelle. L'unico pensiero dei consiglieri di centrosinistra e centrodestra scelti dagli abruzzesi per migliorare la ragione in cui vivono è abbandonare la regione per la scalata al Parlamento, concludono i 5 Stelle. Se chi governa la regione ha altro a cui pensare, se l'obiettivo è solo accomodarsi su poltrone più grande e più comode, si faccia da parte e lasci governare noi. domani mercoledì 28 alle ore 11 nella sala delle lauree della Facoltà di Scienze Politiche saranno presentati i risultati del corso di alfabetizzazione nella lingua di segni italiani, l'IS, che si sono svolti all'Università di Tenomo nell'anno accademico 2016-2017. Dopo i saluti del rettore Luciano D'Amico e del direttore della Fondazione Universitaria Manuel Di Nicola, interverranno il docente del corso Mauro Chilante e la codocente lingua madre Rosanna Giovanditto. Per l'occasione sarà presentato il risultato della ricerca svolta da un gruppo di studenti in collaborazione con l'Accademia del fumetto di Pescara consistente nella traduzione in vignette di alcuni concetti emblematici rappresentativi e propri della cultura sorda e soprattutto del rapporto tra questa e la cultura udente. Interverrà il maestro Carmine Di Giandomenico, coordinatore del progetto che rappresenta il primo tentativo in Italia di ricercare ed operare in modo scientifico un collegamento tra due diverse modalità di comunicazione non verbale quella del fumetto ed appunto la lisse. Saranno proiettati dei filmati realizzati dai studenti in lingua italiana dei segni. Mercoledì 28 giugno alle ore 18 nella chiesa parrocchiale di San Pio X di Avezzano mediante l'imposizione delle mani del Vescovo dei Marsi Monsignor Pietro Santoro sarà ordinato diacono Luigi Incerto. Il giovane Luigi di 27 anni, nato e cresciuto ad Avezzano dopo la maturità classica è entrato nel pontificio seminario regionale San Pio X di Chieti. Ha svolto il suo servizio nella parrocchia di San Sebastiano Martire di Paterno, frazione di Avezzano ed attualmente nella parrocchia di San Pio X, sempre di Avezzano, dove è cresciuto e si è formato frequentando anche il gruppo parrocchiale di azione cattolica. Dalla padella alla brace, un modo di dire conosciuto a tutti. Comunque l'AS di Chieti Lanciano Vasto, l'assessorato alla sanità, dopo aver perso un anno creando solo probabili danni all'azienda sanitaria, adesso decidono e scelgono in maniera del tutto inopportuna e fuori luogo la figura di Tiziana Petrella, quale nuovo direttore del Dipartimento Risorse Economiche, Tecniche e Patrimonio dell'AS di Pescara al posto della dimissionaria di Pietro. Questo è il commento del Presidente della Commissione di Vigilanza e Consigliere regionale che sottolinea. La preferenza della dottoressa Petrella, già direttore amministrativo dell'AS di Pescara, è una decisione che mortifica ed umilia le tante professionalità presenti all'interno della struttura sanitaria della provincia di Chieti, visto dove vi sono decine di dirigenti che possono egregiamente ricoprire quello specifico ruolo apicale di primissimo ordine. Vorrei capire, spiega Febbo, le motivazioni per cui è stata indicata la Petrella senza ricorrere a figure presenti all'interno della stessa azienda sanitaria e magari attingere alla stessa grado dottoria del bando da cui era stata selezionata la stessa Sabrina Di Pietro. Inoltre, su Trini a Febbo ci troviamo dentro un preciso momento storico molto delicato dove ci sono scelte, decisioni e dati fondamentali da affrontare che incrociano sia il destino dell'AS di Lanciano-Vasto i Chieti sia quello dell'AS di Pescara, quali due idea, il nuovo ospedale di Chieti per il tramite del project financing, il sito della centrale operativa Emergenza 118 nonché l'approvazione degli atti aziendali del 2-AS e quindi mi auguro anche la realizzazione dei nuovi ospedali di Vasto e Lanciano. Giovedì 29 giugno alle 18, presso Vienivia come Caffè in via Conaneri 9 di fronte al Comune di Avezzano, Sinistra Italiana Avezzano ha promosso un incontro con Coradino Mineo, senatore di Sinistra Italiana, giornalista ed ex direttore di Rai News. Maurizio Pendenza, segretario del Circolo Cittadino di Avezzano che coordinerà i lavori, ha preannunciato che l'incontro toccherà svariati temi dalla legge elettorale al futuro della Sinistra in Italia dopo la grande assemblea che si è svolta il 18 giugno scorso al Teatro Brancaccio a Roma insieme ad Anna Falcone e Tommaso Montanari. Interverranno il segretario regionale di Sinistra Italiana Daniele Liccheri che farà il punto della situazione politica regionale dopo le ultime amministrative e su come Sinistra Italiana si sta organizzando sul territorio. Il segretario provinciale di Sinistra Italiana Daniele Iacutoni e Leandro Bracco, consigliere regionale Abruzzo di Sinistra Italiana. Nel corso dell'incontro ci sarà la presentazione ufficiale del Circolo Cittadino. L'assessore alle politiche agricole Dino Pepe ha scritto una lettera aperta nella quale ha invitato ristoratori, albergatori ed operatori abruzzesi ad utilizzare i prodotti locali considerati sicuri e certificati prodotti biologici a denominazione di origine o indicazione geografica. Le nostre produzioni, scrive nella lettera Dino Pepe, offrono la massima garanzia della qualità della stagionalità e soprattutto del forte legame che lega le eccellenze agroalimentari abruzzesi al territorio di origine. Dietro ogni prodotto tipico si intersegono storie di cultura e storia di vita e del lavoro. Come noto, prosegue l'assessore, il comparto agricolo ha subito un colpo durissimo a seguito degli eventi calamitosi di gennaio. Se è vero che ogni prodotto tipico racconta una storia del territorio circostante, quest'anno in Cazzapepe abbiamo il dovere di raccontare una storia fatta di forza, di resistenza, di capabilità, di bellezza, di voglia di ripartire e di portare avanti i valori di cui sono impergnati i sacrifici dei produttori agricoli abruzzesi, cioè la qualità elevatissima del prodotto, il rispetto della tipicità e la tutela del territorio. Se prima era un'esigenza etica quella di lavorare per la filiera corta e per la valorizzazione dei prodotti locali, oggi, sostiene Pepe, è diventato un dovere morale. Dobbiamo dimostrare la nostra solidarietà a coloro che lottano quotidianamente, continua l'assessore, per mantenere le produzioni in posti impegni e bellissimi destinati senza questa economia allo spopolamento e all'abbandono, mantenendo in piedi sistemi sociali fatti di borghi bellissimi e sorprendentemente ancora animati fuori dal tempo e dai sistemi economici tradizionali. Una solidarietà attiva che si alimenta con gesti concreti per conservare quello che mi piace definire il dibattito della magia abruzzese, che mantiene in vita una società, una economia ed un modello che, conclude Dino Pepe, mette ancora al centro la qualità della vita. La regione Abruzzo mette in campo 16 percorsi formativi per arginare le conseguenze sociali ed economiche legate al fenomeno della dispersione scolastica. Sul sito abruzzolavoro.ue è stata pubblicata la gradatoria dei percorsi formativi triennari ammessi a finanziamento a seguito dell'avviso pubblico presentato a dicembre e scaduto il 13 gennaio 2017. I corsi ammessi, che saranno attivati dagli organismi di formazione, sono rivolti ai giovani di età inferiore ai 18 anni che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado. Vogliamo mettere più giovani in condizioni tali da poter entrare ed avviare un percorso credibile nel mercato di lavoro, ha dichiarato l'assessorale a formazione Andrea Girosolimo. C'è una parte di giovani in questa regione che, dopo il percorso scolastico dell'obbligo, decide di non proseguire gli studi. A questi ragazzi dobbiamo dare delle risposte, ma soprattutto dobbiamo creare le condizioni per opportunità di crescita e formazione professionale. I 16 percorsi scelti nell'ambito dell'avviso pubblico, aggiunge Girosolimo, rispondono a questa esigenza, cioè alla capacità di attrarre l'attenzione dei ragazzi che decidono di non proseguire gli studi. Ogni percorso dei 16 individuati coinvolge minimo 15 alunni per un totale di 240 giovani in formazione. Prima dei saluti, vi ricordiamo che questa edizione della telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Ora vi lasciamo alla previsione del tempo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Tei Giornali. Salve e ben ritrovati all'aggiornamento meteo di Antena 2. Che tempo farà nella giornata di mercoledì? Dalla mappa possiamo notare la nostra regione Abruzzo. Tempo soleggiato, numerosi simboli di bel tempo, salvo le nubi che si addosseranno, si formeranno a ridosso dei rilievi. Si tratterà di nubi poco innocue, nubi cumuliformi, che potrebbero essere minacciose di qualche locale più vasco, mentre sulla costa sarà soleggiato per tutto il periodo. Le temperature massime saranno in deciso aumento, mentre le minime saranno in lieve diminuzione o stazionarie. I valori di raggio UV saranno piuttosto alti, attenzione, in quota potranno raggiungere anche i valori 7 e 8. Bisognerà adottare la crema solare anche lungo la costa. Per quanto invece concerne, i prossimi giorni potrebbero formarsi temporali anche sulla nostra regione Abruzzo. Ne torneremo a parlare. Grazie per l'attenzione e arrivederci! Grazie per l'attenzione e arrivederci!